E se stri-sniperassi streamer usando il nome di Xyuder? Codice Xyuderone, un nome, una leggenda E' pronto a stri-sniperare qualunque streamer in live in questo momento su Fortnite Tra l'altro è stato difficilissimo metterlo perché lui stesso non aveva il nome originale Io ho dovuto mettere 46 caratteri speciali tipo la E strana per riuscire a metterlo E vediamo se gli streamer ci cascheranno Vediamo chi ci cascherà perché secondo me qualcuno lo farà, ne sono sicuro al 100% Ovviamente sono coraggioso quindi andrò a stri-sniperare da solo Sicuramente ci sarà anche la gente che giocherà in trio Quindi noi andremo in solo versus trio L'ultima volta non era andata troppo bene perché non so chi si ricorda Ma lo streamer che avessi snepperato si era un po' infuriato Andato questo siamo carichi, bibini sulle spalle e let's go Ok siamo dentro, credo siamo dentro Allora si inizia con la prima streamer, sì perché sono riuscito ad entrare da una ragazza E speriamo di non morire ma siamo in solo vitrio quindi la vedo un po' dura Dobbiamo vedere dove atterra Ok ok sta atterrando a boschetto, sta atterrando a boschetto Dobbiamo vedere dove atterra Io vado al centro Eh c'è un po' di gente sarà un po' un disastro Sarà un po' di disastro trovarla Dov'è? Non la trovo Dov'è finita? Eccola, 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 eccola La ben trovata, la ben trovata, la ben trovata, la ben trovata E io sono morta Perché qua non c'è la... Ah! Ah! Andiamo a picconarla Let's go Andiamo No dove sta andando Ma mi lasciate in pace Oh c'è il TACOS Aiuto! Aiutatemi! Ho appena visto che è dentro il burger Perché c'è gente che mi spaga e io non posso pindare Eccola No vabbè ma come faccio a messare così E lasciami gridare Arriva, arriva qualcuno Oh mamma mia Perché hai sparato me? Andiamo, 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 andiamo Andiamo, 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 andiamo E' impossibile No non riesco, non riesco, non riesco No Oh questo ha stubato però eh Codice più decone! Ma codice più decone! Mi può venire a cheat che è? Codice più decone Tieni Ma hai capito di dare davvero? No ragazzi, non è in live Non è in live No, no, no Ma come facevo a ucciderla? Era impossibile Quasi cascata C'è quasi cascata Proviamo un altro streamer Direi che andiamo Siamo dentro, siamo dentro Siamo dentro, siamo dentro La stessa lobby Tra l'altro è un mio amico Quindi io non gli dirò niente Al massimo lui si vedrà il video Perché non voglio dirgli Che lo sto trisnepperando Ok, dobbiamo capire dove va Penso Credo stia andando a Daily No, non stava andando a Daily Non stava andando a Daily Stava andando a Crucivia Dov'è? Non lo trovo Non lo trovo Ha una skin strana lui Dov'è? No, no, non può uccidere così Ma mi uccide così? Cioè senza vergogna? Ma perché? Chi è il codice exuderone Che viene a stream sniperarmi Anche prima? Chi cazzo è? Cioè proprio distrutta così nulla Niente 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 Questa sarà l'impresa più difficile Della mia vita Perché stiamo andando a stream sniperare Efesto E sarà un bel problema Anche appena visto che ha 150.000 punti arena Quindi mi sa che lui in arena Non ci sa giocare Adesso ovviamente dobbiamo trovare Molto decente Perché con un pompa tamburo Io la vedo un po' dura Riuscire a scederlo Ma anche se avessi Lo spas Che non c'è Non ce la farei Vediamo se lasciamo prendere la taglia Su di lui No, non credo sia lui Allora lui è Chunkier Ok E là chi sta luttando Non so perché è andato là Penso che stia facendo tipo una sfida Boh Non ho tanto capito Dobbiamo prepararci a questo 1v1 Abbastanza intenso Perché Po tre secondi muoio Sicuramente Andiamo 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 Ok 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 Lui è ancora Chunkier E' ancora là che sta luttando Dobbiamo andare Dobbiamo muoverci Andiamo 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 Povero illuso Dani Povero illuso E' tipo sotto la H di Chunkier Dovrebbe essere Dovrebbe essere qui E lui la taglia comunque Dovrebbe essere qua dietro Tipo Flash Sicuro ci servono Eccolo Eccolo ben trovato No ragazzi Ragazzi mi ha completamente distrutto Uno famoso Voglio giocare con te Gigi Giochiamo insieme Si conoscono Ok Ma mi ha full boxato tempo record Ma no ma lui No Lui non può vedere i nomi No non può vedere i nomi lui Perché c'è la modalità Quella del giocatore lì No Non ci ho capito niente ve lo giuro Completamente devastato Ok tra l'altro Lo stavo ancora registrando Siamo in una custom Perché non riuscivo più a entrare Da nessuno streamer Ora siamo in una custom Praticamente sotto gli 80 player Non si può più sparare Adesso andiamo a fargli un bel loser Vediamo come reagisce Se reagisce male Se dovesse reagire male Noi ovviamente Li tiriamo una bella pompata Ok lui dovrebbe Eccolo lì Trovato 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 Calma calma Non vuole farmi sentire però Non volevo farmi sentire subito Andiamo sneaky sneaky Questo non hanno Ok Che pesce mi abbia già sentito Ma perc'ha cotto qua un pad No L'ho completamente griffato Mi ha visto Che mi ha visto Non mi spara Non mi spara Non mi spara Non posso spararmi Tra l'altro si starà chiedendo Perché io sia Guarda solo Non mi è venuto Infatti ho usato una jump Griffer palese Non so Lo so Cazzo fa il loser Che Non posso Ma non si fa Odice exiderone Quello che fa costringere L'oxiderone A far si chiamare Coddle C'è Exiderone Non hai nelle regole No no Non potevi spararmi No 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 E tu non potevi spararmi bro Così mi è un attimo eh Non rispetti le regole Delle tue custom Perché mi ha sparato E io volevo segnalare Scusate E io volevo segnalare Cioè non è che dici Cioè io volevo segnalare tutt'ora Siamo ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Siamo dentro Da un mio amico adesso Siamo da frost Fase preparativa Fase preparativa Adesso andiamo a pusharlo Eccolo 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 La madonna Già che pusha così Non so se ce la faccio Ma perché devo sempre Sinepirare Le gente più forti di me No non riesco a tenerlo Non riesco a tenerlo No 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 Mi ha cliccato Ma che devo fare senza maz Dobbbero fai qualcosa Edita No Chad Cosa cazzo stava facendo Video player Ma cosa devo fare Vabbè ok che era più forte di me Però Pezza mazza Se si è accorto che ero io E niente ragazzone Il video finisce qui Avevo stesineperato Sì un po' di streamer Neanche troppi Perché vi assicuro Che è stato veramente difficile Trovare streamer Dove riuscire a entrare E tra l'altro Il bello è che io sono morto Tutte le volte Non ho fatto neanche una kill Ragazzone se il video vi è piaciuto Mi raccomando Le cozzo Fatemi sapere se vi vorreste Vederlo E magari ditemi anche il nome Di che streamer Dovrei mettere Il nome Tutto questo Un saluto dal Bibus Mi raccomando Fate i bravi Ci vediamo al prossimo video Bella boys Grazie a tutti